John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel paggirone da 0 a 10 della 17esima giornata di serie A. Prima di iniziare come sempre vi invito a lasciare tantissimi, tantissimi mi piace qui sotto perché se questo video raggiunge tantissimi mi piace vi porto la serie anche settimana prossima, altrimenti ovviamente è una serie che si nutre di like come un mostro si nutre di uomini, sto cadendo nel trash, e quindi mi raccomando lasciate tantissimi mi piace se no la prendo e la stacco, iscrivetevi al canale, fatemi sapere la vostra squadra, quella che ti fate qua sotto nei commenti quale voto gli dareste, 3, 2, 1 e partiamo subito. Voto 0 alla cura D'Aversa, sia chiaro non voglio essere troppo 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 cattiva, la fine D'Aversa è appena arrivato e non ce l'ho con D'Aversa, fatto sta che non posso non vedere il Parma penultimo in classifica, 12 punti in 17 partite, 33 gol subiti, certo non mi aspettavo che D'Aversa cambiasse il Parma dal giorno alla notte, certamente sarà più valido di quello che stava facendo Oliverani fino a questo momento, perché la squadra per fare il suo gioco ce l'ha, fatto sta che il Parma che abbiamo visto contro la Lazio è un Parma che esce con le ossa rotte e che perde giustamente in casa contro i Bianco Celesti, il Parma continua a perdere e a perdere e a perdere, di settimana in settimana e fa fatica persino a segnare, mi auguro per loro che non retrocedano in B. Voto 1 al Crotone, sempre più ultimo, eh lo so raga lo so, non so più a chi appigliarmi per parlare di questo Crotone, che ormai lo metto sempre negli ultimi tre voti, però con tutto l'amore del mondo cosa posso fare io? Hanno perso contro il Verona, ci può stare, il problema è che non ci può stare tutto il resto, loro hanno 9 punti, cioè la zona salvezza dista già la bellezza di 5 punti e non sono pochi, soprattutto perché poi le altre, non dico che corrono, ma ogni tanto fanno qualche accelerata, vedi il Genova, vedi lo stesso Torino, il Parma tornerà a far punti e in questo momento io il Crotone non lo vedo assolutamente, squadra pronta per il nostro campionato, dispiace per Stroppa, che comunque in Serie B ha dimostrato di essere un signor allenatore, però avevamo già capito dalla Serie B che il Crotone non avesse la squadra pronta per salvarsi nel nostro campionato, comunque gli auguro in bocca al lupo. Voto 2 al Cagliari in crisi nera e se perdi anche contro la Fiorentina in rodaggio che sta cercando di ricostruirsi, c'è qualcosa che non va, il Cagliari non azzecca più nulla, ha perso questa settimana contro la Fiorentina ma settimana scorsa ha perso contro il Benevento e quella prima il Cagliari ha perso contro il Napoli e quella prima ha perso contro la Roma e quella prima ha pareggiato contro l'Udinese e quella prima ha pareggiato contro il Parma e quella prima ha perso contro l'Inter e quella prima ha pareggiato contro il Verona e quella prima ha pareggiato contro lo Spezia e quella prima ha perso contro la Juventus e quella prima ha vinto contro la Zamp, ragazzi, è dalla settima giornata che il Cagliari non vince poi che la classifica sia, non dico rosea perché comunque hanno due punti sopra la retrocessione ma che in questo momento ritrovi salvi è perché alcune squadre fanno veramente cagare ma questo Cagliari, diciamocelo, non si regge proprio in piedi. Voto 3 al Torino di Giampaolo in zona rossa. Allora, il Torino ultimamente aveva fatto vedere qualcosa e io questo non lo nego assolutamente però il Torino è lì. Cioè, ok, settimana scorsa aveva pareggiato con il Verona, aveva vinto con il Parma quella prima aveva pareggiato contro il Napoli, veniva da un ottimo momento, aveva pareggiato contro il Bologna non perdeva addirittura dal 17 dicembre, però è ancora lì. Però se vado a vedere il Torino è ancora in zona retrocessione e una squadra con una grandissima storia, con una tradizione pazzesca, quale quella granata proprio non ce la faccio a vederla in zona retrocessione. Il Torino si deve dare una svegliata. Pensavo che Giampaolo potesse quantomeno infastidire il Milan essendo il grande ex invece. Ma che voti che ha fa? Voto 4 al mediocre Bologna di Genova. Perché sì? Perché in casa del Genova abbiamo visto un Bologna veramente, veramente, veramente mediocre. E non parlo sotto il punto di vista dei tiri ma parlo sotto il punto di vista del risultato. È un Bologna che non regge. È un Bologna che una la vince e un'altra la perde. È un Bologna che non riesce a dare continuità a quanto di buono fatto. E zitto zitto perché poi gli è presa la pareggia e non ce ne siamo più accorti, perché ne ha pareggiate tantissime di fila ma veramente tante. È un Bologna che non vede la vittoria da abbastanza tempo, lasciatemelo dire. 29 novembre Bologna-Grotone 1-0. Non aggiornata anche per il Bologna esattamente. Anzi no, un po' meglio del Cagliari ma più o meno siamo là. E per una squadra come quella di Sinisa Mijailovic che era partita con la gestione americana per costruire, ricostruire ed arrivare in Europa. Insomma, mi sembra sempre che gli manchi il centesimino per far l'euro e non penso che i depositi del Bologna possano essere contenti dei loro giocatori. Voto 5 alla Sampdoria. L'altalena Sampdoria, ragazzi miei, capace di battere l'Inter, di perdere con lo Spezia. Io non so che dire. Cioè questi praticamente vincono contro le squadre impossibili da battere e poi mi vanno a perdere 2-1 contro lo Spezia. Ecco, la Sampdoria non si merita un'insufficienza. Greve in realtà per quello che sta facendo non si merita nemmeno un'insufficienza calcolando che sta a metà classifica. Però un pochino mi dispiace perché la Sampdoria che abbiamo visto contro lo Spezia è una Sampdoria che esce con le ossa rotte perché tu non puoi andare a perdere contro lo Spezia e voler sperare in un piazzamento d'oro e volerti lottare il settimo posto qualito per la Conference. Ecco, è una Samp, quella di Claudio Ranieri, veramente veramente forte ma che deve capire cosa vuole fare da grande, secondo il mio parere. Voto 6 a Lazio e Napoli. Perché non di più? Innanzitutto perché la Lazio è veramente altalenante. Non sai mai se vince o se perde. Cioè, non sappiamo se questa Lazio ha vinto perché ha affrontato il Parma che non si regge in piedi o perché è veramente veramente forte. Fatto sta che la Lazio ha 28 punti, cioè il Milan ne ha 40, ne ha 12 in più. E quindi sinceramente più di 6, più della sufficienza non mi sento di dare ai biancocelesti. E poi gli azzurri, il Napoli. Perché do solo 6? Perché, regà, hanno vinto all'ultimo seconda. È vero che Musso gli ha parato anche le madonne, ma il Napoli ha fatto un errore dopo un altro. A partire dall'errore di Rachmani che ha dato il pallone a lasagna e si è fatto infillare come non so cosa. E passando poi per il gol di Bagaiogo, il Napoli comunque ha vinto la sufficienza sì, ma di più no. Voto 7 a tutte. A Verona, Spezia, Genoa e Fiorentina. All'ospedale, a chi scende e chi sale. Il Verona che prima era niente, adesso sta studiando per diventare la nuova Atalanta. E porta a casa 3 punti fondamentali che gli permettono di sognare ancora. E gli permettono di arrivare a 27 punti. Ma non solo, perché poi è anche lo Spezia. Che invece è quella squadra che non t'aspetti. Quella squadra che pensi che retroceda. E che invece settimana scorsa con un colpo di coda batte il Napoli. E questa settimana centra la seconda vittoria consecutiva. Vincendo anche con la Sampdoria. E mettendo il Torino nel mirino per la settimana prossima. E in questo momento è più che salvo. E poi il Genoa di Mattia Destro. Una squadra che una volta lottava per l'Europa o la metà classifica. Adesso si trova nei bassi fondi a lottare per non retrocedere. Ma che con Mattia Destro, con Mattia Destro che continua a segnare ed è on fire. Prova ad uscire fuori con le unghie, con i denti e infine la Fiorentina. Forse la squadra più forte e meno aspettata in questo gruppone. Ma che in ogni caso con Prandelli ha ricominciato a correre. E dopo qualche punto qua e là. E dopo qualche gara anche poco convincente. La vittoria maturata questa settimana, secondo me, fa veramente, veramente brodo. Voto 8 al Milan ancora primo e alla Juventus che corre. Li ho volute mettere insieme. Perché comunque non avevano match difficilissimi. Forse la Juventus un po' di più, ma la Juventus come giusto affaticato. E invece voglio parlarvi del Milan prima di tutto. Il Milan che certifica il primo posto. Nonostante non abbia ancora Ibra e non abbia nemmeno Cialanoglu. Ed entrambi giocano uno spezzone. Ciala mezz'ora, Ibra gioca 5 minuti. Fatto stacca il Milan. In ogni caso vince. Vince anche contro i fantasmi di Giampaolo sulla panchina del Torino. Vince grazie al gol di Leao. E il calcio di rigore di che sì. E vince soprattutto confermando il primato. Allungando sull'Inter. Non smettendo di credere in quello che ormai, ditelo, i tifosi del Milan stanno credendo fortemente. Ma nel frattempo diamo anche questo voto alla Juventus. La Juventus che ha ripreso a correre. E ho visto qualche Juventino, ma anche non Juventino, che hanno detto Eh ma la Juventus gioca veramente male. Ma che importa? Ma seriamente, ma che importa se la Juventus non ha brillato? Che poi in realtà secondo me non ha giocato nemmeno troppo male. E ha meritato la vittoria. Magari 3-1 è un po' troppo larga, ma ha meritato la vittoria. La Juventus ha ripreso a correre. E se settimana scorsa aveva vinto contro il Milan e quella prima contro l'Udinese. E se la Juventus sta tenendo dopo la sconfitta per 0-3 contro la Fiorentina un'andata di tre partite, tre vittorie. Questa settimana bisognava certificare quanto di buono fatto. E vi dirò la verità. Quando ho visto il pareggio di De Frello ho detto La Juventus questa non la vince. E invece un colpo di coda. Il bianconeri adesso ci credono. Voto 9 allo spettacolo di Roma-Inter. Anche se poi ho messo solo la foto della Roma. Ma la metti perché sei tifoso? Sì, se la metto è che sono tifoso. Fatto sta che Roma-Inter hanno dato uno spettacolo pazzesco. Pazzesco. La Roma va in vantaggio con gol di Pellegrini. L'Inter la ribalta. Chi mi fa il gol più bello del campionato dell'Inter. E poi Mancini con un colpo di coda che in realtà era di testa ma di coda più o meno era. Visto come entra la palla pareggia. I conti Roma e Inter dimostrano di essere due squadre che quest'anno sanno stare ad alti livelli. La Roma conferma il terzo posto in classifica. L'Inter conferma il secondo posto in classifica. E credo che questa settimana per il big match che abbiamo visto certamente al di là poi dell'orario inguardabile non possiamo di certo lamentarci. E voto 10 al momento dell'Atalanta. E vuoi vedere che alla fine e penso che lo chiamerò così il video ma vuoi vedere che alla fine perché comunque tutti parlavamo di cioè dopo la partenza la Champions chi ci va in Champions? Chi ci va oltre alla Juve? Chi ci va? Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio. E raga l'Atalanta era crollata ma pian piano sta riprendendo botti. Io voglio dargli voto 10 perché ha vinto col Benevento sono d'accordo ma continua a ritmi pazzeschi 7 gol nelle ultime due gare 12-13 gol nelle ultime tre gare 3 vittorie di fila nell'anno nuovo l'Atalanta come da tradizione è ripartita con le bombe a mano ed è pronta a spappolare qualunque cosa settimana prossima sono molto curioso di vedere come andrà e se continuerà a fare quello che sta facendo. Detto questo questo video finisce qua io come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a qua se arrivati fino a qua mi raccomando fatemi sapere anche secondo voi chi andrà in Champions se ci andrà l'Atalanta o non ci andrà insomma scrivetelo con un commento qua sotto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto e seguirmi anche sul mio secondo canale si col calcio 2.0 dove ogni giorno porto uno barra due video solito due video di calcio di FIFA grazie e voce alla lene come sempre ci vediamo un prossimo video ciao a tutti i chi andrà lene come sempre di iscrivervi al canale ciao a tutti i chi andrà lene come sempre di iscrivervi al canale